Vuoi tagliare le calorie e digerire meglio? Prova la pasta di legumi. Io sono Patrizia Landini, giornalista e divulgatrice di Salute Benessere. La pasta di legumi, piselli, ceci o lenticchie, è una scelta nutrizionalmente corretta. Senza glutine e ricca di proteine è ottima per chi vuole mantenere un peso sano e, grazie a un basso indice glicemico, non provoca picchi di zucchero nel sangue. È fonte di vitamine del gruppo B e ferro, magnesio, potassio, nutrienti importanti per la salute delle ossa, del sistema nervoso e del cuore. Grazie al suo contenuto di fibre, aiuta a mantenere la regolarità intestinale e può promuovere la crescita del microbiota intestinale. Lo so cosa state pensando, ma invece è molto gustosa. Leggete il mio articolo in top news di altrostile.net. Troverete tre ricette speciali. Grazie a tutti.